Ciao a tutti! Oggi un nuovo video in cui vi faccio vedere cosa ho mangiato domenica scorsa. Praticamente ero sola a pranzo quel giorno e ho detto vabbè ma sai che c'è? Ma mi faccio una bella coccola, mi ordino un bel pochè. Sono sincera però non raggiungevo l'ordine minimo e quindi ho aggiunto anche un nigiri e un gunkan. E guardate che bel pochè! Il nigiri l'ho preso con salmone, burrata e pistacchio, buonissimo! Ed il gunkan invece era con salmone, gambero in tempura e filadelfia. Nella pochè invece c'erano tantissimi ingredienti. Il gambero in tempura, il gambero rosso, il salmone, il tonno, l'avocado, il pomodoro pachino, la burrata e la granella di pistacchio. Questa sono io che mi delizio con il nigiri, non potete capire quanto era buono. Anche il pochè era buonissimo, stracarico. Ero super curiosa di sapere come ci sarebbe stata la burrata perché non l'avevo mai presa prima nel pochè e devo dire che era squisita, ve la straconsiglio. Fatemi sapere qual è per voi l'ingrediente immancabile nel pochè. Nel mio caso il tonno crudo. C'è proprio un problema col tonno crudo, mi piace troppo. E guardate che è contenta! Aspettate, momento ASMR No vabbè, ma quanto sono belli i suoni tutti sgranocchianti! E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Ciao!